L'acqua viene nel mezzo, fa la borsa, capito? Se dovesse piove speriamo di no. Abbiamo capitato. Ma tanto non piove, forse. E cos'era quello che è passato? Ah no, 631, va bene, 631. Dove passa, dove passa, fammi lì. Senti cos'è? Te lo dico io del Montelabrio, del trasrotore Montelabrio. No, 475. Che l'hanno spostato era 435 e 500, Lucida. 435, 475, vada qui, si è sentito uno quando l'ho acceso e poi è sparito anche lui. Pantelleria. Comunque le antenne girano col vento perché ci ha lasciato la fascetta e la fascetta è scivola, è testa. Sato che periodica dell'antenna è appoggiata al cammino e tutta la stessa attraversa, c'è ora con la sistema. L'Italia, quinto 5, bravo. Italia, quinto 5, bravo, america, portatile 5. India, quinto 5, bravo, alfa, portatile 5. India, quinto 5, bravo, america, portatile 5. India, quinto 5, bravo, alfa, portatile 5. Chiama Contest, ascolta. Prova di là verso il Veneto Benissimo, provi gli altri Contest, CQ Contest India, quinto cinque Sì, molto bene Insomma, sono rimasto un tempo A parte è sparito subito Portatile cinque India, Quebec cinque Bravo America Portatile cinque Chiama Contest, Ascolta Cinque, Chiama Contest, Ascolta Ciao, Cordino Oh, ma si va a fallumare ora Ci vorrebbe un'altra Italia 1 Italia 1 Italia 1 Eh, non ti vedo Italia 1, c'è la nebbia Italia 1 Ciao, ciao Ciao Ciao